Le lacrime dei suoi confratelli, l'applauso dei fedeli che hanno baciato la sua bara accompagnando così il Vescovo Giovanni Battista Picchieri al Paradiso. Ci rivediamo lì, ha chiosato il Cardinale Salvatore De Giorgi, che ha celebrato nella maestosa Cattedrale di Trani il rito funebre per il Vescovo della Diocesi Trani Barletta Bisceglie, scomparso mercoledì in seguito ad un malore. Fu proprio De Giorgi a volerlo segretario del suo Vescovato delegandolo ad Omnia ed è stato lui a ripercorrerne nella corata omelia i 50 anni di servizio che avrebbe compiuto quest'anno il 30 agosto. A pochi mesi dal suo pensionamento, a febbraio, il 12 febbraio 2018, Picchieri avrebbe compiuto 75 anni e, come previsto dai regolamenti ecclesiali, avrebbe dovuto rimettere il suo mandato episcopale nelle mani del Santo Padre. I festeggiamenti dei 50 anni di servizio li avrebbe celebrati alla fine di agosto e già aveva preparato la sua lettera ai fedeli, distribuita ieri al termine della celebrazione funeraria. Con affetto e riconoscenza verso tutti, senza esclusione di alcuno, conclude la preghiera alla Santissima Trinità che aveva scelto. Alla celebrazione, oltre ai familiari, numerosissimi i cittadini che hanno affollato la Cattedrale di Trani, poi le autorità civili, militari, politiche e religiose, i gonfaloni delle città che hanno voluto portare l'estremo saluto al Vescovo Picchieri e salutarlo così con un lungo applauso che lo accompagna alla tumulazione a Sava, la sua città natale.